Temperature record dello scorso mese di giugno che è stato il secondo più caldo mai registrato a livello globale. Giulia Pollonio. Un caldo così qui non si era mai sentito. Montreal, Canada, quattro morti, quasi tutti anziani che vivono senza aria condizionata. Un optional che qui non c'è nemmeno in molti ospedali. Una situazione che interessa anche gli Stati Uniti con vasti incendi in California e Colorado. Temperature fuori norma avvolgono anche il resto del pianeta dal nord della Siberia all'Europa, alla Cina settentrionale. È stato il secondo giugno più caldo mai registrato a livello globale. Il bollettino, stilato poche ore fa dal programma di osservazione della Terra Copernicus Parla Chiaro, battuto per un soffio solo dal giugno 2016. La febbre del pianeta sta aumentando, mezzo grado in più in soli 30 anni. Anche in Europa si registrano temperature eccezionali dopo un maggio di caldo record, con due gradi e mezzo sopra la media che ha roventato soprattutto la Scandinavia. mentre la parte mediterranea veniva flagellata da piogge temporali. Previsto dai climatologi, il surriscaldamento degli oceani sta facendo registrare eventi sempre più estremi e ai 50 morti per caldo in Canada fanno da triste contraltare in queste ore le 46 vittime per alluvione in Giappone, dove piogge torrenziali non si fermano da tre giorni. Fa ancora discutere la decisione di passare la...